Sospetto avvistato, non seguiamo. Sospetto avvistato, lanciamento del bersaglio in corso. Centrale, richiedo supporto aereo. Supporto aereo in arrivo, dovrebbe essere lì a breve. Sospetto avvistato, non seguiamo. Sospetto avvistato, non seguiamo. Distruire l'acqua è pronto. Striscia chiodata evitata, ripeto. Striscia chiodata evitata, continuare l'inseguimento. Centrale, richiedo blocco stradale. Sto radunando delle unità dritto davanti a te, procedi in quella direzione. Unità blocco stradale in viaggio, comunicare la posizione del bersaglio. Striscia chiodata evitata, fuori bersaglio. Sistemi offensivi non operativi, agisci direttamente. Rilevo un segnale di agganciamento IEM, cerca di evitarlo. Striscia chiodata piazzata. Strisciausa chiodata.